Tommaso Zorzi riappare sui social dopo giorni di silenzio e annuncia ai suoi numerosi fan social che sarà impegnato in un nuovo progetto ancora top secret. Nel dettaglio, Tommaso Zorzi su Instagram ha svelato di essere in procinto di partire per la Sardegna, dove ad attenderlo ci sarebbe stato Rocco Sifredi, che ha avuto già modo di conoscere virtualmente quando lo ha intervistato per la sua trasmissione Il Punto Z. Tuttavia, Zorzi è stato molto criptico con i suoi fan, e per il momento non si è sbilanciato più di tanto su questo nuovo progetto, che lo vede protagonista al fianco dell'attore di film per adulti, più famoso al mondo. Di cosa si tratta? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan e sostenitori social di Tommaso Zorzi, i quali però resteranno con il dubbio ancora per qualche giorno. Lo scoprirete su questi canali, ha ammesso Zorzi salutando i suoi fan prima di partire per la Sardegna, e quindi assicurando loro che avrebbe testimoniato e raccontato tutto sul suo profilo social. Secondo voi si cosa si tratta?